e ci siamo con un'altra partita si ok ho fatto una kill e niente il matchmaking sembra piuttosto andare bene anche se ci sono alcuni problemi da risolvere su questo gioco e la respawn pensa solamente ad aggiornarlo e a farsi soldi c'è un altro c'è un altro qui lo sento perfetto perfetto squadra eliminata grazie non ha una mazza questo come stavo dicendo la respawn non pensa a risolvere questo gioco riguardo al matchmaking ma vedo che sta andando molto bene ma vaffangolo falsissimo ah lo so mi dispiace un po mi servono munizioni pesa e ci facciamo un altro giro si adesso sto con valkyrie oh yeah come sembra attenzione attenzione ma ma f**k nooooo ma che p*** Mi c'è un nemico L'altro putico è stessa No Un attimo, devo curarlo Devo rimettermi in sesto Un attimo